Allora, io non credo che si possa stigmatizzare il fatto che si dice, signor Presidente, Presidente del Consiglio, il Premier. Il Premier, sì, la Premier, il Premier. Non credo che sia questo il punto. È specioso, secondo me, serve a fare polemica, la Premier Meloni. La Premier Meloni dovrebbe essere criticata per tante altre cose, secondo me, soprattutto per quello che riguarda la politica internazionale. Oggi, per esempio, c'è Zelensky, che ieri ha vissuto un brutto momento, perché se ne vado ad essa, dove, attenzione, non ci dimentichiamo, c'è una guerra. Io credo che in questo periodo ci siamo abituati a queste guerre, che guardiamo noi da lontano, perché grazie a Dio non ce l'abbiamo, quindi ti immagini. E allora quello che dice, sai, hanno bombardato un drone, è caduto su un palazzo. Perché voi pensate che uno prende una bomba e la fa arrivare esattamente dove pensa che sia senza pigliare un civile? È una guerra. E allora ieri, se il Presidente Zelensky se ne va in visita con il Presidente della Grecia a Odessa, dove c'è una guerra, non può restare impressionato dal fatto che gli sia arrivato un missile a 150 metri di distanza. Quella è una guerra. Ed anche questo è un altro problema, è una guerra dove non si può uscire dai confini, perché, metti caso, che so, l'Ucraina per una questione che non sappiamo bene, piglia, invade, rompe, va a finire in Russia e avanza verso Mosca. Ma lo capite cosa succederebbe? Quindi è una guerra anomala che la cosa più giusta, ora come ora, è solo di finirla. E io credo che sarebbe il caso di criticare il Premier Meloni, la Premier, sentite voi, ma io dico il Premier Meloni, perché non possiamo continuare a fare questo, perché è senza speranza, cioè è una cosa che non si può vincere. Non la possiamo vincere, non la buttiamo sulle bombe atomiche, vediamo con nave Ciusai. Oppure io non posso mai pensare che l'Ucraina possa in qualche modo arrivare a conquistare la Russia, perché le vittorie, per fare in modo che poi ci sia il trattato come sia, devi vincere. E per vincere cosa devi fare? Ti devi mettere contro la Russia, c'è 300 milioni di abitanti, quello che è. Sì, ha tutti i suoi problemi. Ma non sarebbe meglio, come hanno detto i più importanti osservatori, che è il caso di finirla, trovare l'accordo, come si dice in qualche caso, fare buon viso a cattiva sorte, bisogna anche andare a vedere quanti sono contenti o meno di cambiare nazione, perché anche questa sarebbe una cosa da andare a vedere, gliel'avete mai chiesto? A quelli dell'oblast, non so dove, se vogliono essere russi o vogliono essere ucraini, perché molta gente non voleva essere ucraina, preferiva essere russa perché era russa, perché l'Ucraina non è che l'ha conquistata nella guerra precedente questi territori, ha preso una penna, ha detto questo è mio, siamo subito dopo la causa del muro di Berlino, e senza, dice questa è Ucraina. Vabbè, allora la Russia era completamente a zero e quelle hanno potuto fare queste righe, ma purtroppo dopo si si è accorti che era forse un po' troppo per quanto riguarda, allora il momento è questo, finiamola, perché il problema economico ci sta attanagliando, siamo qui, noi stiamo soffrendo in modo incredibile e questo si vede, quindi non mi preoccuperei del signor Presidente o signora Presidente, siamo solidari con la giornata della donna, domani andremo a fare le iniziative, quelle della rete 25 novembre, le proteste, tutto quello che volete, però cerchiamo di convincere il premier o la premier da donne a finirla, perché poi abbiamo i problemi che sappiamo tutti, i trattori. Domani c'è una conferenza stampa, una conferenza stampa del movimento degli agricoltori che ci invita alle ore 11, il problema è capire che cosa vogliono, perché la preoccupazione è che si arrivi a qualcosa in più, qualcosa in più vuol dire fare i blocchi, perché fino a oggi siamo, devo dire, educatamente ci hanno fatto vedere che hanno i mezzi, ma che non hanno voluto dare fastidio, hanno chiesto l'autorizzazione, ma se domani, come aveva detto allora, anche Mariano Ferro verrà in testa di allargare la protesta e mettere in mezzo anche i trasportatori, Compagnia Bella e blocchiamo un po', che succede? Ma perché succede questo? Perché siamo da due anni con l'acqua alla gola, da quando è scoppiata questa cavolo di guerra in Ucraina, lascia stare quella in Medio Oriente che ha altri sviluppi, altre questioni, ora ci sono i primi morti, ma è una guerra, anche quelle, io non lo so come si vorrebbero fare una guerra dove non ci sono morti, la fanno con i corsi, con la Playstation, ma nelle guerre muoiono le persone e lo sanno, c'è una generazione di Ucraini morta, una generazione di ragazzi di 20, 25 morti, ma che piacere hanno avuto? Io preferisco stare un po' peggio e vivere, no? Quindi vediamo che cosa ci diranno questi dei trattori, perché non c'è dubbio che stanno accadendo le solite cose, poi la parleremo anche della concorrenza nella grande distribuzione, stanno accadendo delle cose che dobbiamo superare, perché va bene che esiste questo incredibile divario, perché nel nostro paese ci sono persone ricchissime, che non hanno problemi, se ne vanno al supermercato non gliene frega niente, quanto costa l'olio, ma che fottile 10 euro, ma io ti immagini, ma ci sono quelli che 10 euro per loro non lo possono comprare e così via, e questo divario, la signora Premier, il signor Premier, lo dovrebbero capire un giorno di questi, e qui bisogna agire, comunque vedremo che cosa accade. L'altra cosa riguarda i bleacque, e ne abbiamo parlato di bleacque perché c'era questa storia particolarmente delicata dell'emolumento all'ingegnere, poi domani che è l'amministratore unico di questa società, attenzione, poi domani mica l'ha deciso lui, i bleacque l'hanno fatti i sindaci, si sono messi tutti insieme, hanno detto la cosa migliore è fare una società in house, combattendo, subendo ricorsi al tar, quindi tutti e 12 sindaci hanno deciso che la cosa migliore era fare una società in house dove hanno scelto tutti insieme un amministratore unico che è Franco Pedovani, non è che ce n'era un altro, io non credo che ci fosse stato qualcuno che diceva la faccio io, per cui, ah cazzarola, non gliela facciamo fare a lui, avete scelto lui, io credo che sia stata una scelta motivata sotto vari punti di vista e c'era anche il problema dell'emolumento. Io, un lavoro di questi, gratis, non lo farei, perché una cosa è essere il funzionario, piglia Lumiera, no, senza fare nome e cognome, poi guarda quello migliore, Lumiera, Lumiera è un importante funzionario del comune di Ragusa, quando andrà in pensione, andrà in pensione con una bella pensione, però magari è possibile che il sindaco gli dice, senti, sei andato in pensione, però siccome abbiamo bisogno, mi fai il consulente per questa realtà, per capire meglio, è giusto che non prendi soldi, ti abbiamo pagato per 20 anni, di 30 anni che fai il consulente, ma quella è una cosa, un'altra cosa è amministrare un'azienda di milioni e milioni di euro, centinaia di dipendenti, responsabilità a non finire, che se manca l'aria, l'acqua, sono cavoli tuoi, bisogna, a quel punto dice, no ragazzi, una cosa è darvi una consulenza telefonica, gratis, una cosa è però gestire un'azienda che a questo punto è forse la più grossa azienda che c'è in provincia di Ragusa, pubblica privata, no? Allora alla fine ci sono state lettere, tutte queste cose, oggi che cosa è successo? Si è arrivati a un accordo temporaneo, cioè a per ora, a per ora, lo stipendio non glielo diamo, in attesa di, Franco Poitomani resta in carica, quindi c'è questa sospensione dello stipendio e poi vediamo perché si faranno domande a giudi, avvocati, tutto quello che vuoi, per sapere se è legittimo o non è legittimo. Sentiamo il sindaco che cosa dice.